Luca e Locicero sono a pari merito a livello della fasca di Fango, Mazzoli, Marco e Gianmaria non potete usare le mani per spingervi solo i piedi, Marco e Gianmaria una munizione a testa, la seconda siete fuori, non potete usare le mani per spingervi al momento Luca è davanti a tutti, potrebbe essere proprio lui il secondo finalista dell'Isola dei Famosi 2023 Andrea Locicero ha perso qualche centimetro di spazio ed è proprio Luca a tagliare la linea del traguardo Luca è il secondo finalista bravo Luca, complimenti tu sei il secondo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi hai capito? Luca! bravo! bravo Luca i capelli corti hanno portato bene Luca, ma ti rendi conto? tu sei entrato come Nip e sei il secondo finalista dell'Isola dei Famosi grazie a tutti grazie a tutti